C'è preoccupazione a Teramo per un focolaio di coronavirus individuato nei reparti di medicina e di cardiologia dell'ospedale Mazzini. In tutto, fino ad ora, sono 30 i contagiati e tutti già ricoverati nei reparti Covid. Ma cosa è successo? In una nota, l'ASL di Teramo spiega che il tutto risale ad una paziente di medicina in via di dimissione che giorni fa presentava sintomi per poi risultare positiva al tampone. Sono immediatamente stati sottoposti al test tutti i degenti del reparto, tutto il personale, compresi gli addetti alla distribuzione del vitto e delle pulizie. 14 pazienti ricoverati sono risultati positivi, mentre tutto il personale il risultato negativo e così è immediatamente scattato il protocollo di sicurezza. Sono stati dunque avvisati tutti i reparti con cui i pazienti sono venuti in contatto, sia per trasferimento che per consulenze. Due degenti della medicina trasferiti in cardiologia sono risultati positivi, oltre ad altri ricoverati in quest'ultimo reparto. La Direzione Generale dell'ASL di Teramo ha disposto l'innalzamento delle misure di sicurezza, incrementando ulteriormente il livello di vigilanza e controllo anche sugli accessi alla struttura ospedaliera, mentre è stata convocata una riunione urgente dell'unità di crisi. L'unica buona notizia è che al momento, tra i nuovi contagi, non si registrano casi di varianti del virus.